ben rieccoci qui e ci facciamo i reglietti beh i reglietti la cosa più importante in questo frangente beh una cosa è certa la situazione non è delle migliori in effetti ma prima potenziamoci una cosa che mi interesserebbe è potenziarmi al massimo prima armi rune altri potenziamenti si giusto a mi serve un cavolo di colpa d'ombra letale in effetti devo fare un bel po di lotta al potere quindi dovrò uccidere un bel po di comandanti non direi tutti o quasi quindi mi servirà questa ostentazione al potere ma ora concentriamoci sui reglietti direi che è meglio i reglietti bene mettiti comodo talio da questo qui abbiamo ottenuto informazioni preziose prima che perdesse la testa questi orchi non sanno nulla stiamo perdendo tempo perdendo tempo abbiamo scoperto dove nascondono la polvere esplosiva che cosa vuoi che me ne faccia della polvere esplosiva a parte del piano amico mio interessa solo ciò che ci condurrà alla mano nera sei ansioso di trovare la mano nera nessun problema ti porterò da lui con un po di fortuna gli uruk non hanno ancora scoperto la polvere esplosiva dovremo liberare i miei uomini per scoprirlo credi che la polvere esplosiva possa stanare la mano nera lo spero il nemico è al fosso degli uruk dove molti dei miei sono prigionieri prego che anche eric si trovi lì io mi occuperò degli uruk potremmo usare una tattica più furtiva e metterli fuori gioco usando la loro debolezza il grog hai mai sentito parlare dell'itlas è tossico nonché perfetto per avvelenare gli orchi seguimi ehm in effetti quando disertai dal cancello nero mi ammalò quindi emmm e questa è questa puntata voglio almeno 5.000 like 5.000 iscritti 5.000 like e iscritti se ne volete un altro ma comunque più le ci sono meglio e ehm meno grog ma siete pazzi mmm quindi che è qualcuno che si nasconde non so cosa è stato probabilmente comunque 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 sei morto il murtaccio tu sta buono che prossimo murtaccio sta buono buono tu allo e tutto in modo furtivo bene ok e sono stato sgamato Ah allora questo è nascosto, si si Hitlas Ok L'unico figlio che non possiamo mai pigiare e mangiare Durante tutta la mappa Ma solo in questa In questa situazione Quindi dove è il pro Ah si giusto Eccolo i due Solo in queste In questa missione Missione Stoia Principale Quell'Irgom Sapete che si è unito al A gli amici del cancello nero Ci sono altre piante Seguimi Dove hai trovato la polvere esplosiva? L'ho comprata da un nano Iracondo Gli abbiamo preso la polvere e gli abbiamo lasciato le nostre impronte Ragionero, no? Nano Iracondo? Ti sei rivelato un comandante capace Per essere un disertore Solo perché lascio il lavoro duro a persone come te Ma che pezzente Pensa a spoccarti le mani Da forse una volta Vabbè Spero di rivederti la prossima volta I Irgon Cavolo La cosa Strana Che mi chiedo Se ci sarà Nell'Ombra da guerra Oppure no Ma Ma Su questo C'è oscuro Ma chi sa Se ci saranno Vecchi personaggi Che abbiamo incontrato In In L'Ombra Di Mordor A prenderlo Ah Ah si Murtaggio è stato buono 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 Murtaggio è stato Buoni Buoni In effetti Sta buono Ah Musaccia è un bel carico Sta buono Oh Beh Ah io sta proprio là Musaccia Sta buono Sta buono Ok Ciao Bene E ora vediamo Ci va Sta buono Mi ha rotto Ah si Ah sta buono Dovevo prima Raccogliere Se fiori Sta buono 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 In effetti C'è ragione Sta buono E non perché mi sa Che mi sa Le calcagne Sta buono 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 Ah che cavolo Andiamo No Ok Non credevo che Sauron sarebbe mai tornato L'oscurità sta calando su Mordor Presto non soccomberle sarà impossibile Sauron non l'abbiamo mai visto in signor degli anelli in persona Ma l'abbiamo visto in un'altra saga Sempre del signor degli anelli Quando tutto ebbe inizio Se non sbaglio Trilogia dell'Hobbit Negromante lo chiamavano se non sbaglio Se non ricordo male Ah si In effetti Ricordo benissimo che si chiamava Il Negromante Quindi Chiunque l'abbia visto Commentate Condividete E mettete un like Ditemi ciò che pensate Cosa potrebbe succedere Sono impaziente di vederne gli effetti da vicino Con Sauron E tutta la Situazione In futuro Nel prossimo gioco Quello che Tutte le vostre teorie Scrivete tutte le vostre teorie nei commenti Sotto al video Mmm In effetti Sta buono Questo Ok Aspetta Te le mostracci Mmm Ok Ok Potenziamenti Giusto Ok In effetti Si trovano al cancello principale Per il bene dei miei Resta nell'ombra Radunerò i miei uomini E aspetterò Saremo pronti a prendere la polvere Quando il campo sarà libero Vabbè Se è vero sgamato E' inutile E' come se fosse morto Ricorda Talion Non farti vedere Questi uruk Hanno ucciso schiavi Per molto meno Sta buono Sì Ah Un altro Passo Osservatore Il Icarra Gora Smanjaro Semper Ischia Sì! 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 Cos'è di dar forza quando combatti? La soddisfazione! Vi dorei polvere e i deboli! Debo? Ma come... Ma se non bullo allora? E' bullo sia che ha nascosto i deboli! E' mortacci! No! Gli schiavisti delle maniere devono far lavorare le molle più sodo! Sì! Al furiere di caccia! La sua mola ha passato nel settore! Mi ha detto che se gli si raffredda la cucina userà gli schiavisti come carburante! Spero proprio che ne usi almeno! Così gli altri si daremmo una mossa! Ah sì! 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 Io non ho paura dei cavalli. La prossima volta che ne trovo uno, imparo a cavallare. Fai male a non avere paura. Ne basta uno per farti a pezzi. Quindi dove stanno gli altri? Dai, non posso mica causare la violenza, se non so cavoli dopo. Dai, se non mi è scoperto so cazzi. Quindi, l'altro, in che facciamo? Solo stealth questo. Morti, sono morti. Questo è successo. Aia. Ma che? Ok. Ma vortacci? Beh, non abbiamo trovato. Vabbè, sta buono. Peccato. E ora gli altri? Andiamo ad avere una, va. Tori, 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 tori. Gingonbell. Ok. Questo Gingonbell sono un po' troppo avanti. Ah, ok. Come è troppo vicino, è troppo lontano? Ma stiamo scherzando? Dai. Ok. Sta buono. Ok. No. Quindi. Questi urugano, hanno troppo il grog. Troppo. Assai. Aiaia di vortacci, state buone, state buone, 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 buone. Per forza che brucia così bene. Per forza che brucia così bene. C'è qualcuno che si nasconde? No. C'è qualcuno che si nasconde? Allora. Ciuxa. bevete bevete ok bevete bevete quindi andiamo di la in effetti dovremmo andare proprio di la ah giusto fate buoni eh non ci ti fidare ci stanno uomini a libera morte ah giusto uomini a libera morte quest'anno o no ah si forse si ci stanno ah 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 ma Vieni con me Vieni con me Forza No Sono io Oh tesoro Tenevo di non rivederti più Lo sapevo che eri viva Lo sapevo Ci saranno altre battaglie, Dalian Ma troveremo la pace Evviva Abbiamo salvato La compagna di Irgo E non vedo l'ora di Vedere cosa succederà Erin Già Si chiama proprio Erin Ma questo è stupido Beh Con questo Epistodio è tutto Ehm E' tutto Ci vediamo alla prossima Condividete, commentate Mettete un like se il video vi è piaciuto E Iscrivetevi al mio canale Ciao Aiu 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 Grazie a tutti